No, è certamente una pessima idea, è certamente una buona definizione quella di clepocrazia e d'altra parte non si può fare a meno di non notare una caratteristica assolutamente importante e assolutamente determinante in questo governo, che è un governo che parla solo con se stesso, di conseguenza tutto ciò che avviene, avviene dentro il governo, tra il governo, tra le persone del governo e non c'è nessun filo che leghi il governo ai cittadini e questa situazione è anomala, decisamente malata e determina un'incapacità di poter affrontare se qualcuno lo valesse dall'interno del governo affrontare il problema, perché il governo parla solo con se stesso, litiga furiosamente con se stesso, personaggi importanti del governo litigano tra loro come se fossero i rappresentanti di due fazioni diverse. Quindi queste divisioni che ci sono anche al governo. Basta pensare, scusa, permettemi di dire ancora una cosa, quello che ci dimostra che il governo parla solo con se stesso è la questione della riforma delle carriere, non c'è italiano che vada in giro battendo la testa al muro e dicendo Dio mio quando faranno la riforma delle carriere, non esiste il problema per gli italiani, per i cittadini, per quelli che abitano questo paese, per quelli che pagano le tasse, per quelli che lavorano per far funzionare questo paese, esiste il problema di litigare, di scontrarsi furiosamente fra la politica e la magistratura, è naturalmente il problema di far fuori, se possibile, la magistratura, ma non esiste assolutamente una possibilità di dare un senso a questo violento scontro tra la magistratura e la politica, è una lotta dentro la politica che rappresenta il grado di immiserimento che ha avuto la vita pubblica nel nostro paese. Ti volevo chiedere una cosa però che ci riprende...